Sono state 811 le persone che si sono sottoposte ieri mattina al tampone rapido per il coronavirus in modalità drive-in alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Sono 84 gli utenti ai risultati positivi che hanno effettuato immediatamente dopo il tampone molecolare. Il drive-in alla Fiera del Mediterraneo di Palermo proseguirà dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 16, domenica e festivi dalle 9 alle 14. Per motivi organizzativi l'accesso sarà consentito fino alle ore 14 nei giorni feriali dal lunedì al sabato e fino alle ore 12 la domenica e festivi. In tali orari i cancelli verranno chiusi e la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all'interno della Fiera fino ad esaurimento. Per ottimizzare e velocizzare le operazioni l'ASPA ha messo a disposizione online nel modulo per il consenso informato che occorre stampare, compilare e firmare. In tre giorni di attività sono stati 2.995 le persone che hanno aderito allo screening di massa organizzato da Assessorato regionale alla salute, commissario anticovide della città di Palermo Renato Costa, ASPE del Capologo e Comune di Palermo. Uno screening che ha consentito di individuare 255 positivi che hanno ripetuto il test con il tampone molecolare così come stabilito dalle linee guida. C'è grande soddisfazione per il riscontro avuto dalla gente che ringrazio per la comprensione di tutti i momenti in cui si sono create delle criticità, ha detto il direttore generale dell'ASPE di Palermo Daniela Faraoni. Tutta la mia ammirazione e stima per gli operatori che sono veramente eroici. E un ringraziamento al dottor Renato Costa e al direttore sanitario Maurizio Montalbano. E un ringraziamento al dottor Renato Costa.